... Indegnamente sono andato avanti in questa lista Grazie, il micucino viene apposta tutte le volte e tutte le volte arrivo lì, mi raccomando, dillo, grande Leo però hai preso il grande Leo quando io parlavo devi rifarlo quando... nel silenzio, capito? Così sembra fatto apposta Buonasera a tutti Grazie D'altra parte quando uno c'ha i fan e c'ha i fan Andiamo avanti con la lista Indegnamente mi sono divertito ad andare avanti con questa lista Che cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'acqua gassata è di destra mentre l'acqua naturale è di sinistra Le escort sono di destra mentre i trans sono di sinistra I maia sono chiaramente di destra la loro profezia però è molto sinistra Il chinotto? Il chinotto è di sinistra Berlo al billionaire oltre che di destra è da bischeri perché costa più di due barili di petrolio Rocco Sifredi è di destra anche se gran parte di se stesso nelle mutande sta a sinistra Vedo che apprezzate la cinematografia alta Prendere l'ascensore è di destra Fare le scale è di sinistra Il tapirulà è democristiano Lo spinning una cazzata Fate così Vedo che frequentate anche un po' di palestra Schettino parrebbe di destra Le 50 mila euro che pare che gli abbiano dato per l'intervista sono da stronzi più che di sinistri Bossi è di destra Il figlio Renzo non lo vogliono né a destra né a sinistra Ceccherini Ceccherini doveva venire qui ma al sabato insegna catechismo Ceccherini è di sinistra ma se vede un bar aperto là si butta anche sulla destra Rocco Papaleo è di sinistra ma fattura alla EDI che è di destra e se non ripartiamo così Borghezio è di destra speriamo che vada a Londra e attraversi la strada guardando a sinistra l'occhio l'occhio di Lucia annunziata butta a destra ma il suo cuore è a sinistra Giorgio Gaber Giorgio Gaber è di sinistra la moglie le moglie fanno sempre il contrario di quello che dicono i magici il sindaco Renzi è di sinistra il fanciullino che è dentro di lui è a destra Cenerentola 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 è di destra sei mani sono di sinistra uno Scilipotolo è di destra anche se era di sinistra poi arrivò Compro e Scilipotolo diventò di destra Banderas che parla con una gallina è pazzo la gallina che gli risponde è finta passato e presente sono sempre stati di destra il futuro è l'illusione della sinistra la frusta la frusta del padrone non può essere che di destra ma il vibratore è di sinistra Beppe Grillo Beppe Grillo Beppe Grillo è di Genova Platone è di destra Aristotele è di sinistra così come il Socratico conosci te stesso è di destra e il Sorgnonico dimentica te stesso è di sinistra è di destra chi soffre perché Monti tenta di salvare l'Italia è di sinistra è di sinistra chi soffre perché l'Italia la sta tentando di salvare molti i soldi i soldi sono di destra i saldi di sinistra il pranzino è di destra il baccalà salato di sinistra la precedenza scelta sempre la destra la pazienza la sinistra la mafia la mafia è ambidestra via Reggio è di sinistra invece invece quella notte del 29 giugno del 2009 quella notte è di tutti grazie 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 io mi chiamo papaleo volevo dire una cosa prima scusami Leonardo ma tu sei di sinistra però fai i film con Medusa che è di destra è vero sono di sinistra e faccio i film con Medusa che è di destra nei quali film te tu ci sei sempre che cos'è la destra cos'è la sinistra Che cos'è la destra, cos'è la sinistra Che cos'è la destra, cos'è la sinistra, cos'è la destra Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, basta Rocco Papaleo